... 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 Ma che voce ha fatto Raffa? Oddio Bella Comunque come vedete Prima è andato in negativo, l'ha detto pure che non era lui Ma che cazzo dici? Era Giova che stava a casa mia e io stavo a casa tua Ma che cazzo dici? Dai non mettetevi Comunque come vedete è la partita dopo quella di prima Visto che Giovanni ha appena passato in platino Quindi siamo tre platinati Adesso ci butterà contro 200.000 maestri Platinati Facciamo come i giochi del PS3 Siamo platinati Siamo implatinati Oh my god Vi ripeto per chi non avesse visto Recitare I live scorsi che questa account qua Non mi potete aggiungere perchè Ho messo la privacy E non cercate neanche, al massimo dopo Come vi ho già detto nelle parti scorse Lo utilizzerò per Per farmi aggiungere Però dopo Mi sei imparato a memoria di te Oh merda Vai buono Si può vincere E' postazione Tutti platino contro due platino o due mai E' due euro Va Wiki do you speak english? Wiki? Wiki speak english? 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 Dissi quello Wiki speak english? Dovevamo giocheremo meglio Wiki speak english? Non è vero L'hai detto ieri Dovevamo giocheremo Ho detto avremmo dovuto giocare meglio oh no, no.. ok entri entra altri dai olor raga raga hai il vento, il vento principale raga c'erò io il vento sopra 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 hitmarker hai lo shottato raga che ho preso ok, preso sopra 2,2,2,2,2 2,2,2,2 un'altra uccisione vai 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 vai, a venti buss, a venti buss ok ce n'è uno davanti di rampa merda, son morto una delle streak vabbè, ok lo ripuscio, lo ripuscio, rimaniamo di rampa qua raga, a 10 secondi push anche un'altro merda, ho tracciato l'arma come un coglione e mi hanno ucciso vabbè vai, entra, entra no, raga, raga, c'era uno dietro che cosa è questo? che cos'è questo? sono da dove le entro dai, entri oddio no, finestra, finestra finestra dietro, dietro, ritmarker oh, ma non muoio ancora che mi ha trattato le scale spiderman raga, dentro è sopra, non è sopra, raga oh, ma non muoio, no raga, raga attenzione, è mb eh, uno di voi push oh, però non è possibile, ma che cazzo di cuffie ci hanno? no, che la mia vicina escono fuori sparando raga raga, andiamo a 51 pari così però raga, sono già nella prossima, raga, ce n'è uno già nella prossima non è possibile, raga raga eh, ci sono andato in spazio se nemmeno doveva venire anche, andiamo no stazione localizzata si, tu forse eh, non è vero che sono nella prossima, ragazzi non erano tre lì, dove ero io eh, ce n'erò uno, però è vero, che cazzo dici no, ma perché non è no raga, dietro, scale, scale, scale scale fuori, scale retro e uno sotto uno sotto ok, quello sotto no, raga, finestra, finestra nell'angolo della sinistra, bene contegni, contegni, arrivi contegni, arrivi vabbè, guarda, guarda uno è fuori oh, ma che cosa sono tutti questi marker ma questo qua l'ho preso in faccia Dio santo, due centimetri non muore pusciate mp vai 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 ok, qua rimane alleato andiamo sopra, rampa dietro, ok headshot vai vai vai, abbiamo lo spawn, abbiamo lo spawn abbiamo lo spawn buonissima, buonissima abbiamo lo spawn a cartoni, forse principale, principale abbiamo ancora lo spawn raga, c'è l'elsa del full mini 2,2 2,2 eh, merda c'ho anti-schede ma ero stradanneggiato vabbè, ero in streak per me vabbè, ero in streak per me raga, attaccate lì, in contemporanea raga uno vada sopra, uno vada dietro eh, fatti ammazzacare dentro qui raga, io passo da sopra dai, voi passate uno dal centro raga ma non tu ti acca raga, uno sopra, uno sopra, uno sopra uno sopra uno sopra eh, una pu... mi apri, mia apri, mia apri mappostima, abbiamo appostato raga, tanto... fuori dai piedi ma raga, raga, raga ma... stazione localizzata Se mi coprite la casa No E io ma li ho accumulati Mi stavo dicendo Mi stavo dicendo Ho distrutto due Elser Raga scopritemi Che la culo Ah mamma donna Raga in prossima Quante parti raga Quanti ne hanno In prossima raga Oh addio Raga una prossima Raga una prossima Oh aiuta 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 No Uno dal rete della prossima one shot Ma non muoio E la scama ce n'era uno E che ora c'hanno lo spam Un'altra uccisione No l'ho disciato Vai ragazzi abbiamo lo spam Vai Raga due da finestra due da finestra Uno da finestra Uno da finestra Siamo muoviti Marker Marker Vai 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 Due principali Oh grandissimo Grandissimo vai 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 Push anche te Emoria E mi ha guardato uries Non arriva una finestra L'arriva una finestra L'arriva una finestra konk Entonces Marker K Vabbè Ok L'hai pushato Wars comunale ITY Euro Mud Agnes Lauren Glide Agnes Hal roma carri armati due carri armati merda si è morto io non vedo la mappa ecchio aspetta ci sto io occhio da sotto raga scale sotto raga scale sotto due due dai ha un assist dal coso mi hanno ucciso vai 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 ci sto ci sto io vado nella prossima giova lascia l'alleato giova lascia l'alleato ci sta lui dentro perchè mi sembra che non ci sia la macchina la macchina merda raga in prossimo sono tutti in prossimo costruzione locale occhio guarda principale non ci vuole una storia c'è una torretta addio raga aspettate che le distrugge la torretta raga aspettate che le distrugge la torretta raga aspettate che le distrugge la torretta che le distrugge la torretta raga uno si ma due no ero lontano ok ma due io non c'ho le strick andate in prossimo raga questo qua lo ha proprio monica ah ragazzi due da cartoni due da cartoni encaro armato il middle occhio occhio due encaro armato merda no non ce l'ho colpo fulminante nemico oddio ma che dovessero tirare fuori le stricche raga aiutatevi dentro non possiamo perdere il casino chiudo occhio no addio raga eh dai dai entrate entrate raga entrate grandissimi grandissimi buon buon andate in prossimo guarda pure io occhio 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 raga ma i nemico ma quante tazioni strip c'hanno questi sono pazzi state in prossimo ragazzi la contendo io questo ok raga quella lascerà stare andiamo alla prossima intanto non posso recuperare bravo la postazione conquistata vado localizzato va raga in prossimo abbiamo vinto buona 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 raga 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 vi spero che il live sia un po' cagato minimamente ma purtroppo non c'è se la cava non è così finita quindi non è così finita quindi spero che comunque vi sia piaciuto controllate il tempo ora ovviamente non la farò finire così a casa si guarda raga ci vediamo che ci stanno girando occhio portarello ok io lag lag non 19.33 ok ok vedo un nemico lori non non ancora voglio vedere se mi mette il maestro comunque raga voi vedete che sono lì con 4 tac ma io non ero l'host perchè all'inizio non ero il primo e poi comunque su lega delle volte lo cambia proprio l'indicesimo in platino ok io primo dai ragazzi io vi saluto comunque ehm spero che vi sia piaciuto adesso magari ne farò un'altra e niente ovviamente come ho detto vi saluto lasciate like se vi è piaciuto scrivete nei commenti se ne volete vedere altri ovviamente e ragazzi ho finito ciao a tutti ciao 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 ciao